Noi come Regione sosteniamo e incentiviamo la formazione delle unioni, ma soprattutto chi mette insieme funzioni. Perché un'unione che si è formalizzata ma non mette insieme funzioni non avrà un incentivo dalla Regione. Gli incentivi sul bilancio 2011 superano i 16 milioni di euro proprio per le forme associate. La Regione Emilia-Romagna a livello nazionale è una delle regioni più strutturate in unioni? Sì, certamente. Noi abbiamo 348 comuni, ce ne sono 43 che non fanno parte di forme associative di unioni. Soltanto 43 su 348. Stiamo lavorando insieme al sistema delle autonomie, ANCI in particolare, Lega delle Autonomie, per rafforzare anche le nostre norme, per far sì che il processo continui e si consolidi ancora di più. L'unione fa risparmiare i comuni. Abbiamo delle esperienze di ormai qualche anno, come ad esempio nella provincia di Ravenna, la bassa Romagna, oppure in provincia di Modena, Terre dei Castelli, che possono già, come hanno già fatto, dei consuntivi di attività in cui dimostrano un'economia e contemporaneamente invece un rafforzamento dei servizi. Quindi in quelle realtà c'è già la prova approvata. Dal punto di vista politico è a costo zero perché sono i sindaci che formano gli organismi dell'Unione. Non è un'aggiunta di un altro livello istituzionale perché sono le stesse funzioni dei comuni. Quindi in realtà il cittadino direttamente se ne accorge poco perché gli sportelli di front office, di rapporto diretto col cittadino, sono delocalizzati, rimangono nei diversi comuni. Quindi non cambia l'abitudine né per i cittadini e nemmeno per le imprese. Ma il lavoro invece tecnico, organizzativo, contabile, invece è unico come sistema.